Lavori di rinnovo dei binari dal 4 luglio per la metro A e il tramotto. Sulla linea A il cantiere durerà 18 mesi e si svolgerà nelle ore serali. Dal 4 luglio, dalla domenica al giovedì, dalle ore 21 ci saranno i bus al posto dei treni lungo l'intero percorso tra Battistini e Anagnina. Il venerdì e il sabato servizio regolare. Per il tramotto invece, sempre dal 4 luglio, i mesi di lavoro saranno 6 con bus al posto dei tram da inizio a fine servizio.